Un caro saluto da Francesco Samani In questa lezione voglio introdurre relativamente alle metodologie didattiche Una metodologia molto importante e conosciuta che è rule playing Ovviamente le metodologie didattiche sono importanti per tutti i 4 o 5 concorsi I concorsi docenti 2020 saranno tanti E molto brevemente indico che è una lezione importante per prepararsi in tutti i concorsi Quindi a mio avviso non c'è una distinzione netta tra il concorso ordinario Lo straordinario abilitante Questa lezione potrebbe avere un impatto meno importante su quel tipo di concorso specifico Però a mio avviso è una conoscenza valida e importante per tutti i concorsi Allora è importante iniziare col dire che questa famosa tecnica Che in italiano posso tradurre con gioco di ruolo Essenzialmente prevede lo svolgimento e quindi l'acquisizione di uno specifico ruolo A prendere Uno specifico ruolo Poi su questo ci ritorneremo Perché ovviamente ha aspetti Cioè detto così sembrerebbe banale Ma invece quello che sto dicendo è molto importante A mio avviso ha tante implicazioni nella didattica E questo specifico ruolo Può derivare da una rappresentazione Di una situazione reale o immaginaria Quindi da dove deriva Dove prende spunto Da una situazione reale Oppure una situazione immaginaria In questo contesto L'allievo che ricordo Essere sempre al centro dell'attività didattica Quindi il nostro studente Che cosa fa Ricordo che è al centro dell'attività didattica Diventa un attore Nell'acquisire Uno Specific rule Un ruolo specifico Quindi Acquisisce Dove diventano caratteristiche e fattori importanti Che cosa Il tempo è limitato Ed è limitato come in ogni attività didattica E un'altra situazione importante E che Uno studente in particolare È colui che personalizza un ruolo Cercandone poi di capirne E di capirne Le varie I vari significati Il resto della classe È osservatore Quindi La classe È osservatrice Benissimo Già vi ho detto Abbastanza concetti Andiamo avanti Quindi È uno strumento Di formazione Quindi Una metodologia didattica Che si basa quindi Su una Simulazione Qui è una Simulazione Che ovviamente L'interessato Che simula Lo studente Non è Cioè Prende spunto Dalla vita reale O da una situazione Immaginaria Ma Ovviamente Sta simulando Questa situazione Però Questa situazione Potrebbe avere attinenza Con contesti E situazioni Reali Quindi Simulazione Di Un Contesto Anche reale Non è detto Che lo sia Meglio Se può esserlo E deve essere Ovviamente Strutturato In maniera Coinvolgente Anche dal punto di vista Emozionale Quindi Lo studente Deve riuscire A coinvolgere Gli altri studenti Che in questo caso Sono gli osservatori Convolgere Emozionalmente Gli interlocutori Qual è A questo punto La Funzione del docente Il docente Cambio colore Così Faccio Ad esempio Una distinzione Anche Di colore Tra Quello che deve fare Lo studente E quello che deve fare Il docente Il docente Introduce La situazione Ed il problema Quindi E cosa deve fare Introduce La Situazione Ed il problema Successivamente I vari studenti Cominciano a interpretare Le parti Assegnate Quindi Ci può essere Una coesistenza Di due Tre studenti Che Producono Attivamente E per un tempo Limitato Una simulazione Nella quale Imitano Un contesto E il resto Della classe E osservatrice Ad esempio Un capo Con un dipendente Un venditore Con un cliente Una volta Terminata L'interpretazione Si svolge Una Discussione Da parte Di tutti Una discussione Anche Con Struttura Che potrebbe essere Quella del Brainstorming Quindi Docente Introduce La situazione Successivamente Lo studente Studente Barra Studenti Diventano Parte integrante Della simulazione E quindi Il role playing Comincia A A venire Messo In atto Quindi Simula La Simula Simulano La O le Situazioni Dopodiché Ci deve essere E' fondamentale Una Discussione Che in questo caso Coinvolge Tutti E ovviamente Il docente Deve Gestire Coinvolge Tutti Il docente Deve gestire Creando anche Interdipendenze Positive Deve gestire Queste Questa discussione Queste Conversazioni Questo Scambio Di Opinioni Cercando di Analizzare Tutti gli aspetti Messi in luce Dalla Rappresentazione Perché Ricordiamoci che Gli osservatori Sono multipli Sono Più Di qualche Studente Costituita Da più di Qualche Studente E Deve Essere Quindi Oltre a mettere In luce Gli aspetti Della rappresentazione Deve essere Valutato Il punto di vista Sociale Interpersonale Intrapersonale Emotivo Eccetera Eccetera La tecnica Può essere Più o meno Strutturata Quindi può avere La presenza Di più o meno Vincoli E Ovviamente A un certo punto Prevede Che cosa L'inversione Dei ruoli Cioè Coloro che Discutono E osservano Poi a loro volta Diventeranno Parte attiva Simulando Quindi Ci deve essere Una Inversione Dei ruoli Degli studenti Facente parte Della classe E questo È fondamentale Perché facilita E stimola La comprensione Dei punti di vista Altrui Quindi È una Facilitazione Per comprendere I Punti di vista Per comprendere Comunicare Condividere E discutere I punti Di vista Altrui Benissimo Adesso Vediamo Quali sono Gli obiettivi Quindi Sicuramente Problem solving Lo sviluppo E la capacità Di risoluzione Quindi Di problemi L'intuito Può essere Utile Per portare A una Progressiva Modificazione Dell'atteggiamento È fondamentale Ed importante Perché Convolge La classe Quindi Lo spirito Di gruppo In questo caso È importante Amplia I punti Di vista Stimola La creatività Perché Abbiamo detto Che ci sarà Ovviamente Anche una parte Immaginaria Quindi come vedete Puntini puntini Perché ci sarebbe Tanto altro Da dire Come vedete Già Abbiamo detto Parecchie cose Non le ho scritte Ovviamente tutte Però già In In questa lezione Ho introdotto Parecchie Questioni Relative Al role playing E andiamo Avanti Così Quindi La domanda Alle domande Che potrebbero Esservi poste Che cos'è Il role playing Cos'è Il role Il role playing Quindi Trasversalmente Accettata La Definizione Che È una Metodologia Didattica Nella quale Il role playing È una Metodologia Didattica In cui Vengono programmati Gli esercizi Nei quali Gli studenti Prendono Students Take The rule Of A person Affected By An issue Quindi Prendono Il ruolo E il protagonismo Di una situazione Quindi Studente Simula Una Situazione E Nel simularla Se ne studia L'impatto Nella vita Gli effetti Delle attività Umane Relativamente Alla Società Alle persone E alle diverse Prospettive Quindi c'è una Diversificazione Diversificazione Che porta Ad un Positivo Confronto Delle diverse Prospettive Delle persone Più raramente Può essere Utilizzato In casi In cui Gli studenti Addirittura Possono Prendere Dei ruoli Di alcuni Fenomeni Come Parte Di un Ecosistema Per Al fine Di Dimostrare E Di Dare Rilevanza A Particolari Situazioni Di una Di fenomeni Però Questa Diciamo Quello che vi ho detto Finora Ricopre Oltre Il 95% Dei casi L'altra domanda Che vi può essere posta La prima Cos'è Il role playing Ve l'ho spiegato Ve l'ho Vi ho detto Come Attuarlo Eccetera Eccetera L'altra domanda È Perché Utilizzarlo Perché Si usa Quindi Veniamo a scoprire Di volta in volta Andiamo Ad analizzare In maniera Critica Tutti gli aspetti Di questa Metodologia didattica Quindi È Simultaneamente Interessante Il role playing E utile Agli studenti Perché Enfatizza Il Mondo Reale Enfatizza Il Mondo Reale Real World In questa Situazione Non c'è Un'unica Verità E un'unica Risposta Ma ci sono Tanti Strumenti Che E progetti Degli studenti I quali Poi nel confronto Mettono Mettono In luce I vari Punti Di vista Quindi c'è Anche poi L'alternanza Il cambiamento Cioè Tra chi Simula E chi Osserva L'osservatore Poi diventa Parte attiva Di questa Metodologia E Chi prima Simulava Diventa Osservatore Quindi c'è anche questo cambiamento Osservatore Attore Che è importante Quindi anche Questo Gioco di ruoli Ma non è Ecco perché Role playing Questo gioco di ruoli In cui Sicuramente Vengono stimolate Le opportunità Di imparare Alcuni contenuti Magari del corso O della lezione Vedendoli Da più Prospettive E quindi anche Ripeto Stimolando Le capacità Attentive Ampliando La mente Perché Ovviamente Verranno fuori Sicuramente Molti Aspetti Che Interessanti Tipici Magari Del Blastorming Ovviamente L'insegnante Abbiamo detto Che deve Decidere Il contesto Gli esercizi Che i studenti Devono Praticare In questa Metodologia E Se Gli studenti Parlano Dei ruoli Umani Il contesto È generalmente Un specifico Problema Come Una Un problema Globale Un problema Sanitario Un problema Della vita Reale Le lezioni Hanno bisogno Di essere Attentamente Illustrate Supervisionate Supervisionate Per Coinvolgere Gli studenti E dare loro L'opportunità Di imparare Quanto Possibile Dall'esperienza In ogni caso Lo scenario Non deve essere Mai lo stesso E Le persone I studenti Che Si scambiano I ruoli Hanno la possibilità Insomma Di medesimarsi In situazioni Nuove Dove Ovviamente C'è un contesto Tra Immaginazione E Realtà Quindi Spendo Altre parole Per essere Ancora Più completo Dato che Molti Di voi Mi stanno Seguendo Molti Si prendono Appunti Alcuni Mi ascoltano Altri Mi vedono Altri Mi ascoltano E mi vedono Altri Mi scrivono Altri Commentano E Devo dire Che tutto Questo Ovviamente Fa bene Alla finalità Di questo Video Di questo Tempo Nel quale Io Dedico Le mie Conoscenze Cioè Dedico Il mio tempo Per condividere Le mie conoscenze E per dare Insomma Quell'input Che poi Può Darvi Un valore Aggiunto Nel vostro Studio Questa Tecnica È Utile Quindi Perché si Usa È utile Anche Per Facilitare I rapporti Interpersonali Tra gli studenti Soprattutto Quando essi Risultano Conflittuali Abbiamo detto Che può Indurre Anche Delle Modificazioni Comportamentali Nel gruppo E Un altro Vantaggio Che abbiamo Che abbiamo Detto È sicuramente Che c'è Un ampliamento Della Possibilità Di Comprendere In maggior modo E con maggiore Flessibilità Il comportamento Degli altri Quindi Abbiamo detto Che sviluppa La capacità Di risolvere I problemi E Quindi Aiuta E È efficace Per imparare A condurre Un'attività Promozionale Quindi È efficace È efficace Per imparare Imparare A condurre Un'attività Promozionale Benissimo Interazione Con gli altri L'ascolto Il dibattito Il controbattere Il sostenere Il proprio punto di vista Il difenderlo Il modificare Il proprio atteggiamento L'adeguarlo Alle situazioni Più diverse Ovviamente Queste sono tutte Peculiarità Di questa Metodologia Nella quale Abbiamo detto Che si invertono I ruoli Si Spinge Lo studente A Esprimere Ad alta voce I propri pensieri I propri impressioni Relative Al proprio personaggio O relativa All'osservazione Del personaggio Si spingono Quindi Gli studenti A diventare Degli attori Per interpretare La parte Di un compagno O di una situazione Vengono Sicuramente Stabilite Delle suddivisioni In gruppo E in sottogruppi Utili Che A preparare In maniera Autonoma Uno stesso Lavoro Che poi Magari Sarà presentato Da tutti Ed è importante Far recitare Lo stesso ruolo A più componenti Del gruppo Per valutare Le differenze Perché Sicuramente Una cosa Una Caratteristica Fondamentale È che Dalle differenze Nascono Poi Le Le cose Migliori Cioè Si Si può Le differenze Sono Quelle Attitudini Quelle situazioni Che Se gestite bene Ci fanno crescere Nella Migliore Nella maniera Migliore Allora Io con questo Vi saluto Non ve lo dico All'inizio Perché me ne dimentico Sempre Perché sono sempre Preso Insomma Dal Desiderio Di iniziare Una nuova Relezione E quindi Mi dimentico Poi Tante Questioni Che sono Fondamentali Per la Continuità Di queste Delle future Lezioni Cioè È importante Insomma Che questa Lezione Possa essere Eseguita Da i più Una caratteristica Di questo Canale Abbastanza Anomala È che Solo il 20% Degli iscritti Segue questo Canale Vuol dire Che l'80% Di voi Stanno Seguendo i video Ma non si sono Ancora iscritti Cioè Ci sono circa 3.000 Iscritti Ma Più di 10.000 Persone Che seguono Costantemente Questo canale Però Non hanno La possibilità Di lasciare Commenti Di essere Aggiornati Di essere Avvisati Quando Usciranno I nuovi video C'era C'era Ancora Può diventare Un lavoro Ma io Non l'ho Fatto Diventare Un lavoro Quindi Non ci sto Guadagnando Ovviamente Ci sono corsi Che si pagano Profumatamente Nei quali Vi spiegano E vi introducono Alcune Di queste cose Però magari Nemmeno Ve ne parlano In maniera Così Approfondita Cioè Io oggi Mi sono preso In questa circostanza Un pochettino Di tempo Per approfondire Questa metodologia Didattica E Le richieste Perché Essenzialmente Me l'ha chiesto Uno di voi Le richieste Che mi sono Pervenute Arrivate Mi richiederebbero Un lavoro Infinito Nel senso Io do restare Tutto il giorno A fare video Per rispondere A tutte le richieste Allora Ovviamente Io le seleziono Con cura E poi Produco video In funzione Anche di Quante persone Mi stanno chiedendo Che cosa E Quindi Iscrivetevi Al canale Mettete Mi piace Lasciate commenti Cercate di Insomma Tenere vivo Questo canale Se desiderate Nuovi video Se vi interessa Insomma Vedere altri video Di questo genere Di questa tipologia Ovviamente Ovviamente Questo canale È un canale Di istruzione Un canale Culturale Un canale Dove Si approfondiscono Tematiche Inerenti Alla scuola All'educazione Alla didattica Alla cultura Alla conoscenza E qui E qui mi fermo Per Per motivi Essenzialmente Di tempo Anche perché Ripeto In questo video Ho già detto Abbastanza Abbastanza informazioni Abbastanza idee Allora Con questo Io vi saluto E vi auguro Una buona Continuazione Di giornata E spero tanto Di Riascoltarci E rivederci Presto Un caloroso Saluto Da Francesco Samani